salve carissimi incitutubi sono francesco e bentornati nella soffitta di camera mia benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla questo oggi vi parlo di un album molto sgrilluccicoso che è il topolino flash edition numero 4 cioè il quarto numero delle flash edition interamente dedicato al tratto irresistibile di stefano intini disegnatore che ve lo dico molto semplicemente non ne sono affatto un fan ha uno stile un po particolare uno stile che non definirei irresistibile e che trovo decisamente molto valido in certi contesti quali le copertine questo disegno qui a me fa decisamente impazzire piuttosto che all'interno delle sue storie penso di averlo detto credo ad ogni ogni storia proprio di di stefano intini lo trovo comunque un autore che ha saputo fare la storia del topolino nel corso dei suoi credo ormai 30 anni di carriera quasi interi o comunque 25 anni di carriera tutti e qui la redazione ha voluto rendere omaggio a questa matita contemporanea nel fumetto disney queste flash edition tutto sommato sono voluto essere queste un omaggio ai disegnatori contemporanei a quelli che hanno un tratto artistico che magari si discosta un po dall'ordinario per assumere una propria personalità una forte personalità che ma a volte va anche a sovrascrivere si va anche a sovrascrivere proprio al disegno allo sceneggiatore stesso l'abbiamo visto con francesco artibani si è potuto vedere intravedere con andrea freccero e con sciarrone entrambi i disegnatori che vengono decisamente ricordati almeno io li ricordo molto bene per il loro tratto riconoscibilissimo fondamentalmente fin dal titolo se vogliamo comunque sia dalla prima pagina e stessa cosa vale anche per stefanentini qui l'autore viene omaggiato se vogliamo in un qualche modo anche da corrado mastantuono che fa una breve prefazione di tre pagine dove spiega il suo rapporto con questo disegnatore mentre l'albo si conclude con un intervento dello stesso intini dello stesso intini vi faccio vedere velocemente dove per l'appunto l'autore ci parla un po delle varie collaborazioni che ha scelto all'interno di questa selezione di storie quindi è una selezione particolarmente personale che però è stato costantemente in ballo tra scelgo questo scelgo quest'altra ha voluto reggere omaggio anche a tutti gli sceneggiatori con cui ha collaborato ma che in fondo all'albo ci segnala in ogni caso con questo autore ho voluto fare anche ho fatto anche questa storia qui mi sono molto divertito insomma ci tiene a dire quanto si sia divertito nel corso della sua carriera a lavorare con tanti sceneggiatori diversi a realizzare le loro storie ognuna col suo tratto col suo stile a cui lui ha dato fondamentalmente vita la selezione di storie dopo l'andiamo analizzare un attimo risulta quindi molto variegata è un po secondo me il problema delle di queste flash edition fondamentalmente lo sapete sono uno che apprezza di più lo stile narrativo lo stile di dialogo voglio vederci quello in una collana piuttosto che un disegnatore quindi un albo che sia per me ha una connotazione più importante sia lo stesso taglio stilistico che non lo stesso taglio grafico per quanto possa e anzi abbia apprezzato questa questo lavoro proprio per valorizzare e riconoscere autori di questo calibro e quello che andiamo a vedere quindi sono storie totalmente diverse scritte anche in periodi diversi intini non vuole non parte con la sua primissima storia l'album si apre con una storia di rudy salvagnini che zeppo perone il pensiero impressionante vi faccio vedere giusto le tavole man mano che vi parlo delle singole storie il tratto di è ancora molto classico molto semplice molto se vogliamo elementare è una storia del 95 e con elementare intendo banale dozzinale come tanti altri quasi un emulo di cavazzano stesso e ancora non c'è la sua verve il suo stile personale la storia è molto semplice c'è questo c'è bisogno di rimpolpare la rete televisiva di paperone paperone non vuole spendere soldi archimede inventa questo congegno in grado di tramutare in video in videocassette tra l'altro giusto per simboleggiare che è una storia un po retro i pensieri delle persone e quindi comincerà a obbligare le persone a fare insomma delle soppopera a seguire un copione pensando questi copioni stessi il risultato sarà molto strano molto sopra le righe ma decisamente è stata una storia che mi è piaciuta rudy salvagnini era uno sceneggiatore che ci sapeva fare mi dispiace che non lavori più o non stia lavorando da anni col topolino perché i suoi mercoledì pippo sono dei must have e redazione disney finiamo i mercoledì di pippi nel legendary collection per favore per favore li voglio andando avanti abbiamo zepo perone l'isola gialla e il venerdì nero di rodolfo cimino per l'appunto per i geni di stefano intini siamo nel 98 lo stile di intini comincia già più a formarsi c'è qualche rotondità in più qualche stranezza in più è uno stile già diverso mentre prima sarebbe stato molto più tradizionale soprattutto questa vignetta qui mi sembra molto eloquente di quanto ci sia qualcosa di arzigogolato di spigoloso nel tratto di intini che poi diventerà molto rotondeggiante molto pacioso abbiamo anche espressioni facciali che sono un pochettino più personali insomma è uno stile che si sta evolvendo che si sta trasformando che sta diventando più personale la storia di rodolfo cimino quindi è una storia dal sapore molto classico molto favolistico abbiamo zepo perone alla ricerca dell'oro alla cerca di un tesoro scopre che c'è questa isola che emerge periodicamente fatta solamente d'oro e vorrà andarla recuperare nel suo intero fondamentalmente è una storia che funziona divertente molto classica molto come solo rodolfo cimino avrebbe saputo fare le storie ed è un bellissimo omaggio a questo autore forse si potrebbe scegliere qualcosa di meglio in fondo intini cita un'altra storia di rodolfo cimino non so se sia migliore di questa oppure no ma si vede proprio che ci ha tenuto molto a selezionare questa storia di cimino per l'appunto si può proseguire con ciccio e la laboriosità sprint di carlo panaro carlo panaro che vino omaggiato e mi fa piacere perché ve l'ho sempre detto carlo panaro forse non è uno degli autori big top indimenticabili del topolino ma è un autore solido è proprio quella pietra miliare e quell'autore che ti dici vabbè non sarà il capolavoro di questo numero ma è una bella storia l'ho sempre detto e sempre continuerò a dirlo purtroppo per carlo panaro è un autore che secondo me meriterebbe più attenzione proprio perché è un autore quotidiano è proprio un autore quotidiano è un autore che non sbaglia mai che non sbaglia mai c'è poco da dire è un autore che secondo me funziona alla grande già qui possiamo intravedere come lo stile di una storia del 2004 lo stile non sia più così squadrato come nel 98 ma ha già assunto una sua posa e uno suo stile un pochettino più da intini c'è qualche rotondità strana qualche cosina che ci fa capire che non è un autore che è un autore che ha evoluto il suo tratto in qualcosa di diverso la stessa cosa si può vedere anche nella storia successiva sempre più o meno dello stesso anno anzi dello stesso anno Bumbunghigno e l'imbianchino mascherato di Corrado Mastantuono storia in cui l'autore omaggia l'amico Corrado Mastantuono con una storia per l'appunto di Bumbunghigno complice anche una colorazione retro in alcune sue parti proprio perché la storia è metata nel passato nella vita passata di Bumbunghigno di quando ha deciso di diventare un eroe per supportare i deboli diventando l'imbianchino mascherato storia che poi ha portato ad avere alcuni sequel di questo eroe che non è un Paperinic 3.0 non è una Paperinica che di fatto è una Paperinic femminile non è una Brigittic che prende proprio il nome proprio da Paperinic che vuole vendicare i torti amorosi ma è colui che vuole fare giustizia sul lavoro incredibilmente su un lavoro che poi è quello della carpenteria e dell'imbianchino quindi anche qualcosa di decisamente particolare che ho particolarmente apprezzato che insomma Corrado Mastantuono è uno di quegli autori che da piccolo mi piaceva poco ma che sto rivalutando col tempo scrive storie decisamente più mature più quotidiane più legate agli adulti al mondo degli adulti mi piace come approccio perché riesce ad essere comico e quindi apprezzabile anche da bambini ma che da adulto si può intravedere una maturità di fondo che da bambino non avrei potuto apprezzare ottima scelta davvero ottima scelta nel 2007 invece era uscita la premiata ditta Fili e Brigitta I segreti del backstage storia di Maria Muzzolini autrice che non penso di aver mai nominato su questo canale forse perché ha collaborato per poco tempo premiata ditta era una serie di storie che vedevano per l'appunto Brigitta e Filos Gang a collaborare insieme e qui possiamo vedere come il tratto di Intini sia praticato non dico quello attuale ma che si sia ulteriormente evoluto nella sua elementarità in alcuni casi nella sua semplicità ma riesce ad essere nonostante tutto estremamente parlante estremamente personale in questa storia qui abbiamo i segreti del backstage per l'appunto quindi abbiamo Brigitta e Filo che indagranno su che cosa fanno dietro le quinte autori cantanti famosi andando poi a rivelarli nel loro giornale creando insomma degli scontenti da parte del pubblico che scopre delle verità assolutamente incredibili è una storia davvero interessante che ha come morale di fondo quella di non importa cosa pensa la gente è importante che tu però sia te stesso tu non devi essere qualcuno o qualcosa per piacere agli altri tu devi cercare di essere sempre te stesso perché solo così riuscirai ad apprezzarti e a farti apprezzare degli altri una piccola chicca anche come morale di fondo davvero azzeccata e sceneggiata bene divertente anche dal punto di vista stilistico abbiamo poi Miniborg e i vichinghi per bene di Gagnor per i disegni di Intini storia del 2012 e finalmente vediamo una storia con i topi dove lo stile di Intini secondo me differisce ulteriormente proprio perché i personaggi sono totalmente differenti abbiamo una storia imbietata nel passato ci sono questo paesotto abitato da Minni e da altri personaggi che vengono attaccati dai vichinghi di Topolino Orazio e Pippo che in realtà sono dei bonaccioni ma presto saranno attaccati dai vichinghi di Gamba di Legno e quindi insieme dovranno studiare un piano per l'appunto per fermare i vichinghi cattivi storia molto semplice molto molto bella visivamente parlando interessante dal punto di vista della storia poi arrivano le storpiature milanesi di Gagnor che fanno un po' cascare le braccia perché è uno stile comico che sì mi va bene ma quando diventano mille storpiature diventa tutto secondo me un po' troppo fine a se stesso Gagnor qui non so da quanto tempo già collaborasse col giornale credo che già da un po' però ultimamente sta cambiando pochettino e vedremo come proseguirà soprattutto con Pk ne parleremo credo in quel di maggio-giugno fondamentalmente di Pk per Alessandro Sisti viene selezionata Nonna Papera e la sbuffante Elvira storia di non saprei che anno perché credo che sia sempre 2015 perché qui manca proprio l'anno c'è segnato 201 ma credo che difficilmente sia l'anno 201 per tanti motivi e qui niente è una storia che omaggia anche Nonna Papera che ha questa questo aratro a forma di terreno fondamentalmente a vapore un aratro a vapore estremamente funzionale che si rompe e i nipotini vogliono aiutare la nonna a tutti i costi storia molto carina discreta e molto molto divertente ulteriore storia molto valida molto bella di Vito Stabile che viene non so se è omaggiato per la prima volta anche da un disegnatore stesso in albi come questi quindi viene proprio valorizzato e non c'è da dire questa storia mi aveva colpito i tempi quando ero uscita ed è già una storia del 2015 quindi io continuo a dire Vito Stabile è qui da poco sarà un paio d'anni è già il quinto anno che collabora almeno col Topolino ed è Pippo e l'asso dei cieli una storia che vede una storia che vede indagare un po' il rapporto tra Pippo e i suoi parenti in particolare con questo nonno particolarmente scorbutico particolarmente arrabbiato con Pippo stesso e non si capisce e non si sa bene il perché e con Topolino che indagherà proprio per scoprire cosa è successo per aiutare Pippo a riallacciare i rapporti con un parente che come tematica di una storia con Topolino è qualcosa di molto inusuale ma estremamente funzionale perché vengono utilizzati i personaggi al loro meglio ed era una gran bella storia e sono felice che sia stata selezionata proprio all'interno di questo di un volume in cui un autore dice questa storia qui è merita questa storia qui è valida questo disegnatore qui vale la pena conoscerlo o meglio non è che Intini fa vedere fondamentalmente il suo stile grafico ma ci ha tenuto a far sapere ho collaborato anche con questo disegnatore qui quindi è bello stessa cosa si potrebbe dire quasi con Zepo Perone e la monetona della terra dei Tampuri storia scritta da Sio forse una delle migliori sue prove sul Topolino non è stata una delle sue prime con Paperone Quicocqua e Paperina in viaggio nella terra dei Talpuri a ricerca di questa moneta dal valore di un milione di dollari ci saranno delle gag ci saranno molte gag decisamente molte qui possiamo vedere come lo stile di Intini sia totalmente diverso ed è una storia del 2016 da quello che potevamo vedere per l'appunto nella storia di apertura sono praticamente due disegnatori diversi ed è stato un bel viaggio proprio la riscoperta di questo disegnatore un disegnatore che rimango della mia idea fondamentalmente ha uno stile personale ha uno stile perfettamente riconoscibile ma apprezzo sceneggiatori dallo stile dal taglio decisamente più classico tradizionale proprio per questo che lo apprezzo più nella sua prima fase se vogliamo quella degli esordi degli inizi e lo apprezzo un po' nei suoi all'inizio degli anni fine anni 2000 inizio anni 10 dove già il suo trato si era evoluto ma aveva già assunto una sua connotazione una sua personalità mentre adesso forse perché lo suo stile sta ancora cambiando e quindi è costantemente alla ricerca di un cambiamento di un aggiornamento siamo in una ulteriore fase di destabilizzazione fondamentalmente mi verrebbe da dire una fase ancora di ricerca di studio di evoluzione per l'appunto che porterà ad avere un intini 3.0 spero che sarà apprezzabile e valido un volume che mi sento di consigliarvi nonostante tutto perché se è vero che lo stile di disegno l'avete visto è un po' particolare è uno stile che merita è un autore che merita di essere riscoperto di essere valorizzato e questa collana sembra proprio fatta apposta per quello valorizzare gli autori del topolino e darci peso avete visto già come lo stile di disegno vi ho parlato anche di tutte le sue storie storie che non sono mai brutte è un albo valido chiaro parla molti linguaggi diversi ci sono gli autori più comici gli autori più tradizionali c'è un pochettino di tutto come commistione di genere di lettura ma sempre estremamente piacevole e quindi sono stati 7,90 euro a parere ben spesi nonostante non sia un fan del tratto visivo di Intini e me la smetto di dirlo perché se no sembra che mi faccia schifo non è vero non è il mio stile preferito fondamentalmente ci sono autori che mi piacciono ancora meno decisamente meno di Intini quindi diciamo è una via di mezzo come copertinista c'è poco da fare Intini è secondo me spettacolare proprio perché ha questo stile un pochettino particolare che ben si presta delle illustrazioni tant'è che la copertina credo sia in assoluto la più bella delle Flash Edition decisamente la più bella delle Flash Edition e quindi lasciatevi ammaliare da queste immagini flashanti il prossimo albo di questa collana sarà dedicato a Pezzin autore estremamente valido che non vedo l'ora di avere sotto mano non Pezzin il volume su Pezzin per vedere spero molto Massimo di Vita proprio perché ha collaborato molto aveva collaborato molto con Giorgio Cavazzano e abbiamo avuto un bellissimo volume a loro dedicato nell'Iver Green Edition non vedo l'ora di vedere magari il corrispettivo con Massimo di Vita chi lo sa nel prossimo volume detto questo qui da Francesco e Funko Pop alle mie spalle dalla soffitta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao ciao